Disney Junior presenta i magici momenti di Vampirina Il dottor Paquette, il creaturinario, chiede a Vampirina di occuparsi di un uovo davvero speciale Andrà tutto bene? Allora, primo passo, ruotare! E adesso, dottoressa? Secondo passo, calore e coccole! Prendo altre coperte! Ehm, cos'era quel rumore? Ti prego dimmi che era solo la schiena di Gregoria! Magari! Invece è stato l'uovo! Dovremmo chiamare il dottor Paquette! Aspettate! Ho promesso che avrebbe dato io all'uovo! Possiamo occuparci noi? Ne sono certa! Ci serve solo... Un cerotto! Visto? Com'è nuovo! E ora prendo una coperta! Ehm, dottoressa, il cerotto si è tolto! E sono spuntate due zampe da lucertola! Possiamo chiamare il dottor Paquette? Si sta schiudendo! Oh, che carino! Un cucciolo di drago! Ma voi vedete la stessa creatura che vedo io? La creatura più carina e cuccolosa che esista? No, io vedo un vero e proprio drago che creerà problemi! Oh, sono certa che andrà tutto benissimo! Che problemi potrà mai creare un cucciolo di drago? Oh, tu hai ragione! Non può accadere nulla di grave con un cucciolo di drago! Che sputa fuoco! Ah, che sciocca sono a preoccuparmi! È solo del fumo inoffensivo! Di certo è innocuo! Oppure no! Non può essere volato lontano! No, piccolo drago! Non è ora di cena! D'accordo, forse lo è! Guarda, Demi! Credo che abbia molta fame! È così che possiamo catturarla! Cibo per draghi! Ora so cosa fare! Caldo! Caldo! Aiuto, come brucia! Diventerò un fantasmatoss! Allora il dottor Packet sta arrivando... Brava, draghetta! Brava! Sono qui! Sono qui! Oh, sapevo che era una pessima idea! C'è del fumo? Fiamme? Bene, ma guarda qui che abbiamo! È in ottima salute, è ben nutrita e perfettamente coccolata! Direi che sei una creaturinaria perfetta! Grazie, dottor Packet! Non è stato facile, ma Vampirina ha provato di essere un'eccellente creaturinaria, facendo schiudere l'uovo del piccolo drago! Continua a seguire i magici momenti e non perdere Vampirina su Disney Junior! Tocca lo schermo per vedere altri video e segui Disney Junior per i tuoi programmi preferiti!